buongiorno siamo qui in lr mobiliare con la signora anna che ha venduto un appartamento di sua proprietà in zona cassia a roma e oggi ci racconta qual è stata la sua esperienza con la nostra attività di promozione commerciale allora anna com'è andata devo dire che sono stati molto efficienti sempre presenti per qualsiasi cosa puntuali negli appuntamenti delle persone insomma che sono venute a visitare l'immobile fotografo per fare volantini e comunque dei blichi per mettere comunque al meglio in mostra l'appartamento devo dire che veramente veramente molto efficienti tra l'altro diciamo che nonostante il fatto ci fosse il mese di agosto di mezzo abbiamo anche lavorato un pochino ad agosto compatibilmente con le esigenze di vacanza e appunto tolto il mese agosto è stata anche una vendita in termini abbastanza rapidi da questo punto di vista devo dire quasi velocissima perché considerando che l'agenzia ha preso in carico casa forse i primi di giugno diciamo siamo in fine settembre l'appartamento l'immobile è stato già venduto quindi devo dire veramente grazie all'agenzia quindi possiamo dire che con l'era immobiliare la tua casa in buone mani buonissime grazie alla prossima alla prossima